Nei precedenti episodi di Medici, la resurrezione, si cerca sempre una grande potenza con cui allearci. Nel frattempo gli ottomani ci richiamano guerra per nessuna volta e la Francia si alleia con gli ottomani. Davvero una bella freccia nella schiera, un bel coltello alle spalle. Asfaltiamo la Francia, chiediamo la pace con anche una bella ricompensa in Ducati, circa 1100, e prendiamo anche Costantinopoli, ma con c'è una sconfitta perché il nostro esercito viene totalmente distrutto da quell'ottomano. In tutto questo finalmente abbiamo un Papa italiano, peccato che l'obiettivo del Papa Medici sia già passato da qualche tempo. Ma vedremo cosa accarrà in questo nuovo episodio di Medici, la resurrezione. La strada è in questo nuovo episodio di Medici, la strada è in questo 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 episodio di Medici, la strada è in E così abbiamo perso anche il malus della presa di Roma, che ci dà diplomatic reputation, meno uno. Se si vede da che parte, deve essere qui, sì. Ecco, ma ci siamo più duri grazie alla diplomatic influence, ossia le nostre idee diplomatiche. Siamo anche in Italia di Papi, se conoscere il nostro obiettivo non ci abbiamo fatto, e stavolta ci abbiamo fatta. E poi ci uscire la Golden Bull, andiamo un po' a spiegare questa cosa, e infatti sì. E allora potrei avere chissene di pietà, mi dà riluppo, meno 5, tronanza più 2, e investe 800 dei miei soldoni. No. Libertas Ecclesias. Il nuovo empire, ok, sono solo la granzione dell'impero. Qua ci dà istituzione, la braccia della istituzione, meno 10, istituzione spirito più 25. Cardina spirit istituzione, poi investe 800 fronte e curia, e ti risolviamo. Ah, della curia. Bene. Quindi state la curia, ci serviranno a fare qualcosa. Nelle istituzioni, l'abbiamo già tutte, forse. Questa ancora deve nascere. Potrebbe essere un'idea, qua deve avere l'immensa Astori Day. Poi c'è la Helios Kiss Pro Divini. A Grace Special, meno 10. Enever Crossade After Age Limit. Dei grazie a Rex. Ero, Absolute, Absolute Is, meno 50, più 50, mezzo punto diciamo. Il Drill Loss, meno 25, e Andres Catholic Process, meno 2. In teoria, l'unico limit sarebbe il tesoro della curia, che è 800. Vediamo un po', se io metto l'istituzione immensa Eterni Day. Vediamo un po'. Ok. Vedi, io potrei farne anche un'altra. Giusto? No. Vabbè, questo di qua ci serviva, è importante. Io davvero sono felice di quello che sono venuto a fare come prima partita, con le tre città di Arezzo, Firenze e Pisa. Molto contento. Ma avendo altri giocatori, soprattutto l'antiduzione che è uno che sa che mi piace tantissimo, sono davvero spiegato, perché, sì, molte cose mai fatti come prima partita, tipo alleanze da scegliere con cure, non così alla casum, ma ho avuto gli ottomani che non sono mai stati distrutti, gli anni sono espanti, sono fortissimi. Guarda qui gli ottomani hanno, mamma, c'è tutta la Nord Africa, e poi c'è l'aspetto d'altra parte. Poi ce l'abbiamo, l'Austria che ha avuto i tempi di testi sui 9, la Francia che ha avuto i tempi di testi sui 9, cioè è realmente vero che Austria, Francia e Spagna hanno avuto i tempi di interesse nel territorio italiano, dopo la morte anche di Lorenzo, ci fu le quali quelli di vedere d'Italia, la Francia che si pesa in Milano realmente è caduto, il sud che andò alla Spagna, poi l'Austria che con quello quinto unì all'Austria e Spagna è, insomma, un grande globo, come se anche le Fiandre, le Nedrolande, ma veramente sono l'unico di pochi che vedo che queste problematiche che ha avuto. Comunque, andiamo avanti, iniziamo sempre tu con tre, e allora io vorrei fare una cosa, ho visto, diciamo, anche come poter distire la flotta meglio, ossia, mettendo frutta da guerra, che sono le navi pesanti, le galè e trasporto in, tipo, qui nel porto, mentre le lightship sono quelle più commerciali, dividi magari in tre, dividerle se è possibile, vediamo un poco, lightship, posso gestirle, allora tu ti metti qua, allora non c'è un porto forse, qua ci dovrebbe essere, penso, no, qua non c'è il porto a terra cina, dock, posso bisogno di lightship, in realtà, qui a Sina come siamo, c'è il mercato, abbiamo i workshop, church, e l'università, abbiamo un contatto di utile, qui in manifatture, soldiers, navafossi di più due, lock a ship, boot time, 25, repair, posso bisogna fare questo, il shipyard, o magari a pista, bisogna pisare più in una città navale, ci manca un 20, diamo un bel boost, costa poco, 39 punti militari, 39, 39, ok, 1, e 2, e qui c'è un shipyard, che già abbiamo, ho fatto una cavolata, scusa, dove è il shipyard, ah, eccolo qui, vai allora a pista, si, fai, passa, passa amico mio, però non posso, ah, ecco, posso farlo, però vorrei dividere, se possibile, queste truppe, ecco, l'ail ship, le fregate, set di uniti, diamo come obiettivo, un po' del trade, perché non possono, ah, perché sono, richiamo in automatico, mettiamole qui, queste navi, sono queste tre vorrei, grazie, ok, lo posso, un po' del trade, non un po', se ora, ecco, ma diciamo un po' più solo, 50, 67, 34, la ragusa tantissimo faremmo, ragusa, non mi ho, trasferito ragusa, sì, quindi ragusa, vai, poi, sempre questa è qui, togli questo, voi andate in modball, naftain diciamo, voi vi dividete in tre fregate, la torres, mi sono un po' distrutte, devo dire, secondo me metterei, una qui, a Ferrara, e una qui a Genova, che parla di affari, come ci sono riparate, se si possono riparare, se domani a Genova, avere qualche cosa, per costruire, il mill, center, counting, stock, grand shipyard, perfetto, che cosa vedo, fra un poco, va bene, ok, e queste di qua sono state fatte, mi è stiamato un po', le questioni navali, la Savoia, si può passalizzare, si offre alleanza, poi se vicino, i nomi da uomini, ho visto anche una guerra, contro Genova, tutto, poi tutto impero qui, sto, cioè non posso più espalno, un'idea per quello di espalnesi, contro, i maledetti spagnoli, i spagnoli maledetti, anche Saluzzo, lo stanno, gli spagnoli, lo stanno, eccoli qua, sono in guerra, con Abash, ma sono, pensa a quanto forti, quindi proprio, direi che, è un po' con, un'azzara, da solo, insomma, sei troppo di ottomani, io dove l'emmio con qualcuno, se è possibile, otto mani, sono ostili, loro sono ostili, la Francia, rivale, l'Austria neutrale, diciamo, è l'unico che potrebbe essere l'Austria, insomma, adesso c'è avuto, c'è tra di di più, più volte, hai il tuo meno mille, io ho meno mille, a parte tua, scusami, che mi ha detto più volte, e allora, la Russia, la Russia che stiamo migliorando, per fare un'alleanza, andiamo un po', manca, 3,34, per le nostre forze navali, militari, ok, primo di power, uh, Ducati, facciamo Ducati che, ci veniva ora l'esercito, e anche la frotta, allora, frotta grossa, mettere altre, 7,8, 1, e 2, se posso farlo, io ho un poco se posso farlo, ho fatto una cavolata, ma posso farlo, ok, qui ho messo, 3, e 2, 5, e, ogni uno, devo cancellarlo 1, mi ha detto 41, mi ha detto 341, 13 gennaio, quando di stare, 8 aprile, 20 settembre, vorremmo militare questo, così siamo alla pari, mentre come forza militare, 0,83, non abbiamo forza militare, abbiamo ricreuto un esercito da 0, e io ho fatto qui, un template, 26, 13, 16, 39, e lo costruiamo, mentre tutte le pronunci ho messo, se ne ho avuto male, da Roma, così vado tutte a Roma, che stanno lì, poi l'altra cosa che ho visto, è che posso spostare la capitale, marittima, se ne ricordo male, andiamo un poco, allora, prendo vestigio, prendo 5 vestigio, ok, e, andiamo un poco, province history, no, ecco qui, ah, che sono già a Genova, quindi già non posso fare niente, mentre la capitale potrei spostare, la capitale è a Roma, solo che lì c'è un forte, no, non c'è un forte, per la costruzione ancora, ma, aspettiamo un attimo, andiamo poi, se ci toglie, qua è Genova, sì, la facciamo così, vorremmo anche avere qualche, non so, qualche, cosa in più, al core, ok, in Italia ho preso anche le sue colonie, solo che ente sono un po' chiuso tra otto mani, oddio, sono chiuso qui fra otto mani, l'Austria c'è spagnolo, non so più come potrei rimuovere, la Spagna è proprio il suo nemico che posso muovere, ma, eh, bisogna che è ancora alleata, qui vediamo un po' cosa migliorare, missionario, produzione, stabilita, cost, national task, mo' di fare sempre ottimo, che è anche un bel 3, io lo farei quasi quasi, le più tasse, andiamo un po', quanto è il mio incano così, un 81, vediamo poi con l'esercito, se va in un altro stato, il Trentino, e qui un po' meno ci conviene, è che è troppo distante da noi, abbiamo carefully, ottimo, quindi arrest, scolaro, e te così, un ottimo doge devo dire, Africa pro console, avere, tutta Tunisia, Gerba, andiamo un po', cosa ci chiede di fare, esatto, tutti questi qua, Marocco e Spagna, fare guerra, c'è, l'aspetto è così forte, ma l'ho vista, cioè, è, veramente è accaduto, ma, tutto qui, tutti i suoi alleati, in Cina, Gran Bretagna, tu sei la nostra alleata, c'è Sternia, un poco, offre alleanza, meno 8, un'alleanza con la Gran Bretagna, è per 8, per la sua forza navale, e soprattutto, anche l'esercito, che è numeroso, manda a Genova, ok, 5,7,9, 101 mesi, aspetto, perché è in 2 mesi? Cancello un attimo, per favore, Development, Increase Innovation, meno 1, Catholic Empire, non lo so, ci costa un po', ma da facciamo, tecnologia, ok, Advance, ok, stiamo migliorando anche le tecnologie, la Russia, la Russia, come va con le alleanze, meno 32, stiamo migliorando, abbiamo già accaduto il primo esercito, che aggiungerei, soltanto, un'altra affanteria, se è possibile, ok, 19, 5, 11, no, 34, 35, ancora non siamo al massimo, sacro che è parte, ok, Roma, e Sieno, ok, la mate stiamo arrivando, poi, una flotta, un po', un po', un po' di trade, a Genova, anche se è poco, ci dà un boost in più, mentre, l'ultima flotta, flotta veneziana, magari, se vuoi chiamarla, o flotta San Marco, qui si è di Venezia, flotta San Marco, ok, casbello, Francia, vai, a padri, trade, a Venezia, giusto, cent, mette, questa è la prima flotta, che fa, trade, eh, Genova, flotta, San Giacomo, io c'è un posto nome, Giacomo, Giacomo, allora, eh, posso dare lui, prendiamo lo 13 di diplomatrice di potescio, e 6-1-1, ha dei buoni tratti, ma 6-1, perché 6-1-1-2, forse è più diplomatrice di oggi, Giovanni Maria Casanova, là, è un Casanova posto e vicino, anche il che trattaciturà, la seconda flotta è questa, Save us, Ragusa, la chiamiamo flotta, flotta balcanica, poi, di fatto è di Ragusa, appunto, voglio capire dove sta, oh, costruire il costo, meno 10, ottimo, questo, sono costruiti di più, conto il nostro income, 7-14, con l'esercito, manca qualcun altro costruire, se al genere manca un cannone, anzi, un cavalleria, un, 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 mette appunto un altro cannone, e così andiamo a posto, provincia del resto, qua si può migliorare qualcosa, se no, stiamo migliorando, l'esternese l'antia, dove sono questi, non lo so, però troviamo questi, troviamo anche, Savoia, France, a Genova, e Perugia, addirittura, Perugia, e i Toscani, ok, questa è la prima, diciamo, esercito, che stiamo costruendo, di 40 uomini, appunto, lo rivela, lo rivela, lo rivela con il Vandeburgo, assolutamente, il Vandeburgo, quando crescerà, il comune, il nostro alleato, penso di no, e allora, è Junior Parne, quindi non ci bisogna, alla fine, basta la venenza con il Vandeburgo, accettiamo, avviene questo importante, altra grande potenza, potrebbe essere magari la Svezia, o il Dutch, Dutch, Scandinav, il NED, l'Olanda, diciamo, noi siamo i Paesi Bassi, per almeno 1000, per opinione nostra, sui nuovi, e qua, meno 16, Improvedersion, assolutamente, con la Svezia, cioè, tiro i Ducati, bravo, così, con Svezia, e Brandenburg, con, magari, in futuro Russia, e Gran Bretagna, che sono, uno, due, cioè, uno, due, tre, e quattro, quattro alleanze, non stavo voglia, per essere la quinta, che possiamo, possiamo avere le cinque, potrei stare a costruire qualcosa, tre di qui, si possono costruire, a Venezia, che non posso, Modena, Milano, 12, 5, 11, sono un po' costruito ovunque, penso, sì, non so cosa è molto, 3,93, la stessa, si può costruire tantissimo, Venezia, quanto mi è, 35, Firenze, 32, cosa è che, questo qua, non è un po' a bustare Firenze, andiamo un po', qua c'è, workshop, barracks, toglie, cosa è che, le barracks, report, no, catterrale, declare again, no, sì, se proprio per essere buono, per l'amiltà, declaro, ci può servire, vediamo un bel formaggio, che l'abbiamo, e allora, cosa dovremmo costruire, produzioni, o università, magari, che ci dà, local developer, meno 20, università, cremona, magari, o a Novara, forse è più a Milano, è il più corretto fare, a Milano, sì, facciamo un'università, al Milano, e mi sembra, abbiamo così, due università, con Siena, che già c'è, poi, un'altra, ad Arezzo, più a Firenze, poi facciamo anche Arezzo, la università di Arezzo, appa via, e servo 4, e Novara, 5, tutto la notte, l'anno, alleanza offerta, accettiamo, tanti nomi, se ne sembra 5, e infatti, Gran Bretagna, Mitteria Access, Brandeburgo, Savoia e Saluzzo, ah c'è Saluzzo, vero, che un po' siamo annette, che c'è Savoia, è un po' difficile, la cosa, un segreto di 40 uomini, non c'è un leader, subito, che ci dai, metodi ustiniani, dimmi due stelle, oh, due stelle, e si va di drilling, dai eh, e non so, force limit, è di 89, posso dire un'altra così simile, vediamo un po' di amministrativo, insieme a questo, 2614, andiamo un po', facciamo un altro a Firenze, magari, non serve male come cosa, ma in paura ci sarebbe, dove l'esercito, template, lo costruiamo qui a Firenze, tac, e così si costruisce ancora, un altro esercito, forte, e la Svezia sta migliorando, pensate, l'Asvezia presto potremmo, ecco qui, alleanza con la Svezia, sì, National Rest, mercantilismo, perfetto, siamo andati con la Svezia, ed ecco, 6.000 uomini qui, 4.000, 6.000, anche molti generali, molte flotte, è una buona forza per la Svezia, è in guerra ora con la Norvegia, avrà la conquista subito facilmente, non è tanti uomini, ma insomma, potrebbe crescere, spero proprio che la Russia non ha nemica, no, e loro neanche, perfetto, perfetto, allora, Gran Bretagna, Gran Bretagna, alleanza, meno 8, perché sono meno 8, italyami strand, navi, ok, e trust, quindi si costruisce ancora un po' con l'altro esercito, beh, migliora ancora di più, vediamo un po' di manpower, poi solo ricostruiremo, e dovremo anche un po' con sistemare le costruzioni, perché qui c'ho workshop, church, shipyard, ecco, shipyard in Abruzzo, non so quando sia utile, uniamo qui la chiesa, si, 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 ma la nanoware con l'Oriente, forse no, no, e l'unica cosa è una nazzica con la Russia, è una cosa, è che è un meno 28, ma stiamo crescendo, dai, su, su, un operazione buono, prestigio, prestigio, assolutamente, mi serve, anche se ho poco prestigio, ma, non mi interessa, qui siamo a 40 con il drilling, 26, 14, 26 14 Un altro Ne costiamo qui Un genoco E qui si bisogna metterlo Punti abbiamo militari Quindi Approfittiamone Il Toro Medeo Parisi E' una stella Amato di Firenze Esercito Esercito San Giorgio Oh Santa Maria Qua c'è Santa Maria del Fiore Mi piace Il Convento Medeo E qui Esercito di San Pietro Un altro che Terracina Terracina Esercito Di Silente San Pietro Dac Con Giustiniani Sali con Arsere Volù Oh vediamo un po' Recall Recall Assolutamente Qui so anche di chiamare Brandeburgo Così quasi E Con questa Russia Alleanze Almeno 26 Per la forza militare Sempre Noi sono neutrali No? Non lo so Offer Mitriaccess Ask Andiamo un po' se cosa Se ci mi rapporti Magari Sì Autoperazione Non mi interessa Meno 7 Neutral Lo so Con me E questi Troppanzi Sono Svezia Alleanza Gran Bretagna Miniteria Sibrandeburgo Royal Medge Savoia Posso Togliere La Gran Bretagna O la Russia La Russia Ci dà molto Gran Bretagna Anche molte Colonie Quindi Potrebbe essere Quello Fland Di Gran Bretagna Qui No Qui Magari La Spagna Tutta l'America È spagnola Impressionante Neanche c'è una guerra Rivoluzionaria Qualcosa Niente Niente Divenzione La Fed No Per ora Grazie Qua c'è 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 Fra un anno Quasi Poi Mettiamo qui Qualcun altro Ripandere Potesce Più Uno E mai Ripandere Potesce Improvvolation Più Venti Vediamo un po' Con questo Accettiamo La Spezia Meno 5 Vediamo che migliora un poco Prendiamo ancora migliorare i rapporti con loro Se non siamo al massimo Un po' Heretic Improvvolation 85 Adesso mi sembra 100 Quindi continuiamo Nel nostro lavoro di Improvvolation Con la Gran Bretagna E Come siamo qui Meno 31 Un altro Advisor Landman Modifier Se i costi costano meno Dell'esercito Forse Limit Morale Mettiamo spesso Questo Ci fa costare meno Dell'esercito Così passiamo Da un 41 Penso sia diminuito La Spagna Si vado a fare la guerra Se vuoi Che è Usburg 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 Alleanza Offri i condottieri Che ho fatto Vediamo se c'è l'ampire Sono troppo uomini Troppi uomini Orca Orca valetta La Francia Stava a essere distrutta Da chi L'Olanda Impressionante Questo Olanda Impressionante L'Olanda non c'è No perché Hanno Buttare Sui nuovi Ma proviamo Ci vado a essere distrutta Migliori rapporti Dai Su Ok Come Magari Siamo al massimo 110 Ah Per uno Per uno Per uno E' uno E' Se non risulta No Allora Infra Action Non penso Economic Population Allora Dobbiamo provare Ecco C'è una guerra Contra l'ottomani Magari E allora Economic C'è un Magari Un regalino Send gift Che è di uno E quanto cavolo Vogliono questi 300 Per due 500 No Non c'è un 300 250 Un aiuto per la guerra Un aiutino Dai Su Dai su Andiamo Ponte Migliora Ti prego Dammi l'alleanza Dammi l'alleanza Che cametagna E' ottima Ma non ancora Dammi I rapporti Ma sei un maledetto Mentre Con gli otomani Siamo contro Le papali Call for Crescent Indagio Absoluto Team Vabbè Di sola che c'ho Il potere Papallo Non posso fare niente Ma ammazza Che sfiga Che c'ho Veramente Io Sì Ok C'è Vento C'è una Sportuna Assurda Mantieni lì Lascio lì Do sta Che è 111 In massimo Quindi magari Un poco Può migliorare L'olanda L'olanda Stiamo migliorando No 111 Dai Su 111 Devo darcela E cosa Possiamo fare Cosa Possibilità Missione Più Un per cento Un per cento Un per cento Veranza La fede Veranza Over Red Influence Prestigio Facciamo Prestigio Perché Non voglio Avere Problemi Con I Anglicani E allora Favors Andiamo un po' Con questo Se ce lo danno Cosa migliora Conferma Più 39 Già loro Sempre lì Siamo Sempre lì Non c'è altri Problemi Allora Italian Army Strength Italian Army Strength Neutral Attitude Meno tradito Non l'abbiamo Siamo pure regalati Tu fammi Drilling Ai 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 Perché Non mi ha esercito Forte Senza loro Altri 9 uomini Andiamo a fare Magari Qui per il nord Non so Un esercito Di 9 Allora Sapete qualcosa Libri Desire Non mi interessa Attria Bones Service Fort Più 3 Frost March Cost No Power Global Nave And Judgment In Your Cost Corri In distanza Sarebbe ottimo Però Libri Deve Sarebbero Fai più Ottieniere Per ora Perché I corsi Sarebbero buono Sarebbero buono Però Capite che Non c'è più Dobbiamo fare qualcosa La Francia O ci odia Un'alleanzina Francia Siamo anche rivali Noi che abbiamo Come rivali Aspetta Andiamo Andiamo La nostra Cara Italia Che avremo Come rivali Abbiamo la Francia Il Kong Che già siamo rivali Perfetto 2-2 Mi piace così Cara Grabe Bretagna Ti è avuto tanto Berlusa Alleanza Dai Su Meno Oltre Addirittura Con chi sono In guerra Con Congo Timbu Come imperatore L'Austria Sempre ci odierà Meno 2000 Ostili Siamo detto Un'unica voce Che possono Chiarare anche Guerra E Meno 28 Cosa posso Fare di più Dimmi Cara Il Kong Metterò Il potere Ok Adesso Tutto Ma non dobbiamo avere 5 Nel Città Se non ricordo male Un poco A Milano L'ho fatta E a Pavia Sì A Già Non si può fare niente A Firenze Non l'ho fatta A Siena 3 Mamma mia Città Oppure Città Città Poco Sviluppate E anche C'è il tema Devo Qui Navale Troviamo in Navate La Cina Lasciamo Troviamo nel Barracks Non lo so Che c'è Come si fa Militare O no Qua a Perugia Si fa Assonte Militare Land Force Limit Più Due Land Limit Più Uno Land Land Lo Locament Un Un Training Field Qui Una città Più Militare Miglioriamo Un poco Spoleto Spoleto Una città Più di Tassazione Questa Questa C'è ancora Questa c'è Un'università Spoleto Va Un'università Dove Si sta Qui A Roma E' un po' Equilibrato Quindi qui sono Queste Militare Se migliorasse Un po' Il tastazione Non sarei male Dieci Sette C'è Cosa Davvero Tanto A Pauva Quattro Qua Novantasai Reviso Qui No Annuvara Si può Stare tantissimo La stazione Facciamo Annuvara Anche Una manifattura Magari Qua c'è il Gremlin Firm States E' ottimo Costruiamo Ancora un poco Poi a Como Ci sta un bel Forte C'è anche La seta Aventi distante Qui c'è anche la seta Taxi Perfetto L'ho fatto Brescia Non si è costruito Niente A Verona Siamo già Abbiamo Ferm Center Cost friction Workshop Court house Caterale Trade Treviso Non al posto Padova Siamo al posto Bologna E' Un Tessel Workshop Miglioriamo Miglioriamo qui la chiesa Dai su Iniziamo a costruire un po' di più Qui l'arezzo Che è molto produttivo Che si può fare Mi mancano un poco A Siena A Siena Si può costruire Penso di si E allora Siena c'è molto la stazione Però migliorare Magari Con lo stock O le coste Oppure vedo Un po' di più Rampant Che sarebbe A nemici Impressment Nava No Paper Ecco qui La state house Costiamo la state house Assolutamente Va bene Mettiamo Perché c'ho pausa Ancora Mettiamo un 4 Mentre non si è andata Sono 38 Qua Wow Bene Entrate Impressive Siamo una grande potenza Il mercantismo Conto c'è il mercantismo Scusate Ha un Dov'è Mercantismo 36 Lo Lo diminuisco Ok Uuuuh Poi ci attaccheranno Non lo so Già me lo sento Mercantismo Promote Poi ci attaccheranno Non lo so Già lo so Che ci attaccheranno Andiamo a vedere Ancora non ci vuole essere Amica Dai Su 101 Siamo al massimo Per 3 punti Interesting Ti do anche il cuore La Russia La Russia Mi sa che è troppo distante Questo La smessa Malleati Va bene L'Austria D'interessi molto Invece Sono strato La Spagna Idem La Francia C'è ostile Gli Ottomans Sono ancora ostile Vogliono tutta l'Italia Ora io C'è da me Ora voglio tutta l'Italia A tutti i costi Beh E' una cosa incredibile Questo Ma E' una cosa davvero Vergogna Islanda France Canada C'è C'è In French Canada Pure Il rinato Che scatole Che scatole Davvero Comunque ragazzi Per me è qui Nessun episodio Oggi Abbiamo fatto poco E niente Ma tutto era Per prepararci A quel che si verrà dopo Perché se non me Dopo avremo Tanto 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 Richiardo pneumatico E allora Salerno si può fare Meno 70 Il Brandenburg Rivalo Ok Peccato Quindi Lasciamo stare L'Olanda Ci sono veramente Poche potenze Che possono darci Alleanza E Però noi siamo D'una grande potenza All'otto All'ottore Sono su Spagna All'ottore Spagna e Gran Bretagna Io sono con la testa L'Austria Russia Viagra Candissima Alleanza Perché non ce l'hanno Ok Distanza ovviamente L'Austria Ci vuole male Però mi hai riporti Con loro Non lo so Non so davvero Cosa poter fare Realmente Non ce l'accettano E vediamo un poco Quattro Chi vorrebbe Facci un'altra Alleanza Come ultimo Parti Un poco Genova Gascon Lasso Si vorrebbe Vassalizzare Vediamo un poco Vassalizzare No Perché c'erano 81 C'è Savoia Imperato Da 5 E poi 81 È un'economica Base Comperato Savoia Ma che puoi comparare Siamo Alleati Bah Così come anche Al Geno Penso che sia Champagne Si rica assicurarlo Offra le Si rica assicurare A Genova Mentre All'Austria Spagna Sviga Non entra la Spagna Ok Che sta lì Perché la Spagna è qui Today May Interview Warned Ok Abbiamo nazionalismo Abbiamo come abilità Non è male E l'Austria Viene Poi avremo sia Sbezia Che Savoia Vanebrugo No perché Ok Stanno giocando una guerra Con il stesso nemico Con l'Austria No Con Monaco Scusami Vanebrugo Con King Con Champagne Per imparare Smoor E allora Prova Magari Per acquistare Parma Se possibile Guarda quella Di domani Mi sembra Proprio una cosa C'è anche La Francia Alleata Ma vede Vergognare Con Brandeburgo E Savoia La Sbezza Perché non Entra Hanno pure Buone attitudine Con loro C'è Impressionante È impressionante Però sono 200 Mamma Non tanti 50.000 Sono Troppi cannoni Io sono Inutile Inutile Laossi Di Che All'Austria Le Cloud War Tech Friuli Avere la Svezia Da mia parte Ma tutte Tutto In sacro Ordine Mondiale Vabbè ragazzi Fino a cui vi sono di oggi Vi lascio un like A commentare Di la vostra In che cosa non avete fatto Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina C'è le notifiche Nel video che usciranno E vi ricordo Seguimi sul canale Viola Da fuori live E sui vari social Come Facebook Instagram E TikTok Così per stare più Sui miei lavori E godervi altri Con tutti i multimediali E le mie offerte Non ci vediamo Al prossimo episodio Da vostri Mitteri Si chiudo